Perché Lughe è Lughe 4317 Non problem, non problem, non problem Intanto tutte le sfigue di questi giorni prima o poi passeranno Ragazzi, ho finalmente concluso la ricerca della tigre Ho preso la tigre e bengala Ho messo quattro signorine a lavorarci Ho messo un sacco di cose Le tigre sono contentissime Abbiamo passato il primo giorno Abbiamo messo un sacco di attrazioni Tipo come il bar, il caffè e il negozio dei souvenir Abbiamo messo il bagno per andare a fare i bisognini E ora sto facendo una nuova ricerca Che sto ricercando il primo livello della tigre Ossia, completando questo livello La tigre si ammalerà più difficilmente Ora abbiamo completato, finito tutti i punti abilità Abbiamo finito tutti i punti abilità Comprando appunto le tigre E non so cosa fare in questo momento Intanto velocizziamo a per quattro, per tre Vedete, va tutto bello veloce Boom, 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 boom I punti salgono E le tigre le ho chiamate una Moon e una Luke Ora prendiamo i primi soldi Ne compreremo altre due Le chiameremo una Gianluca e una Viviana Abbiamo la bellezza di 16 persone giornaliere Più o meno, vedete, 16, 17, la media 15 E l'unica cosa, un'altra cosa che vorrei fare E comprare, comprare, scusatemi bene Un nuovo ingresso, 30.000 Mettendo un nuovo ingresso Doppiamo la possibilità di avere le persone Poi abbiamo concluso tutto il tutorial E siamo arrivati finalmente alle vere e proprie sfide Guardate quante sfide Completando le sfide Vedete che la ricompensa saranno 30.000 punti di popolarità No, 300.000, no, 30.000 Animali strani, animali rari Eccetera eccetera Vedete Sbloccare le statue E bla 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 Per cui voglio completare tutte le sfide Ora Sta arrivando la notte Si bloccherà il gioco Ci darà tutto reso conto della giornata Nel frammento vi ricordo ragazzi Di Sostenermi con un bel pollicione in su In questo video Proprio tanti Come ne avete messi nel video scorso Allora Tutto verde Tranne un rosso Totale spese In effetti Questa giornata Ho avuto più spese Che incassi Perché appunto Sto comprando Eccetera eccetera Sto programmando Allora Diamo un po' che ci dice Agli ospiti piacerebbero più accessori nel parco E li prenderemo Posizione più accessori Valutazione E anche l'efficacia Ad alcuni animali Servono più piante E andremo a vedere Ad alcuni animali Non piace l'abitat Sicuramente le tigre Perché qua Dovrebbe andare tutto bene Sicuramente sono le tigri Allora Andiamo a potenziare le tigri Subito Andiamo a prendere altri alberi In Asia Andiamo logicamente Prendiamo altre piante Altre piante Abbiamo ben 16.000 da spendere Delle palme Delle palme Io le palme le metterei Le metterei qua Vicino l'acqua Fantastico Una qua Una qua E una qua Costano mille Poi metterei Questo oggetto non può essere Ma chi ti ha chiesto Ma chi ti ha chiesto qualcosa Metterei altre di queste Una qua Magari tutto il contorno Qua 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 E qua Dicevo appunto Ho visto un bel riscontro Nel video scorso Quasi 8.000 pollici in su Cerchiamo di averne Tanti anche in questo video Così continuiamo la serie Ragazzi E speriamo diventi sempre più figo Continuate anche a darmi consigli Nei commenti Mi raccomando Che ne sono arrivati un sacco Allora Allora Abbiamo messo quello di mattoni E chi ci mettiamo Altre cose fighe Piccolo riparo Alla tigre Piccolo riparo Che deve fare la tigre Il grosso riparo di legno Mettiamoci questo qua magari Dai magari qua Non si può girare Vero no Allora mettiamo qua Vicino al cibo Uno qua E uno qua Dai ora è bello completo però Magari mettiamo altra acqua Non lo so La tigre L'acqua Uh la tigre che è entrata a ripare Guardate No no la tigre si fa i cazzi suoi Perfetto Allora ora dovrebbe essere contenta eh Dovrebbero essere almeno contenti Diamo un po' Speriamo in bene Cosa possiamo fare Cosa possiamo fare Siamo al 65% Io intanto velocizzerei Andiamo alla giornata di domani E mettiamo altre cose Qui eh All'interno invece Della Della cosa qua Allora abbiamo bar Abbiamo di tutto Le statue Leggicamente ancora Non li ho Venditori di hot dog Venditori di hamburger Ho sbloccato 4.000 Vai lo mettiamo Uuuuh Lo mettiamo qua Lo mettiamo vicino al bar Lo mettiamo qua Mettiamo qua 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 Vicino alla strada Qua Bam Boom Abbiamo anche Venditori di hamburger Con congratulazioni Incarico completato Posiziona tutti e quattro Gli edifici Dei venditori Ricompensa sbloccati Tutti gli altri edifici Ragazzi Abbiamo fatto una bella missione E abbiamo sbloccato Tutti gli altri edifici Vediamo un po' Il pozzo Il bar Abbiamo sbloccato Ehm Il giornalaio Il gelataio Venditori di hot dog Abbiamo sbloccato tutto Allora mettiamo un bel gelataio 3.000 Non ce la faccio Mettiamo il pozzo Vai il pozzo Che costa 2.000 E il po Che ne faccio Che pozzo Mettiamo il bar Il bar che costa 5.000 Ce l'abbiamo già E non mi bastano i soldi Porca bacca Mettiamo Che è qua Ah metto il gioco in pausa anche Che figata No velocizziamo Velocizziamo Voglio mettere qualcosa di figo Allora Siamo all'86% qua Abbiamo 17 persone Già aumentata di uno E Aumentata di uno Qua stanno facendo così Andiamo a leggere un po' di notizie Ehm Niente Tutto bene Il parco è aperto Perfetto Aperto alle 7 del mattino Ottimo Le persone Sono sempre le stesse Mettiamo Io metterei qua Altra roba Invece che i gabbie Eccola qua Terminata la ricerca Sul benessere delle specie Tigre e bengala Il centro si è fermato Come una struttura Di ricerca sul benessere Animale di livello 1 Visto che lo abbiamo libero Io andrei a fare Una nuova ricerca Andrei a ricercare A livello 2 Aumentando questo livello Gli animali della specie Selezionata Si ammaleranno Più raramente Azz Congratulazione In carico completato Raggiungi 200 ospiti In un giorno Ricompensa Un cucciolo Un cucciolo di che? Oh Ma un cucciolo di che? Oh Mi ha dato un cucciolo Dove ne trovo le ricompense? Ragazzi Dove ne trovo le ricompense? Mi ha dato un cucciolo Eccolo Oh porca bocca Guardalo qui Mi ha dato un cucciolo di bufalo Che figata Cioè Alla fine Il cucciolo Il bufalo Quanto costa? Africa? Oh 21.000 Cioè mi hanno regalato 21.000 Più o meno Perché Dandomi un bufalo Buono Bello Figo Figo Abbiamo aggiunto anche 200 spettatori In un giorno Figo Figo Allora aspettiamo un po' Con le ricerche Facciamo un po' di soldi Prima Allora Abbiamo adesso Un cucciolo in più Io dovrei assumere Degli operai A questo punto Non ho abbastanza Punti di probabilità Che poi sarebbero i soldi In teoria Allora Velocizzerei per tre E farei altri soldini Vedete un po' che salgono 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 Abbiamo tante spese Allora Carne La zona posta Non è stata fornita Nell'abitat Luke La zona pasto Non è stata rifornita In un habitat E infatti Mancano gli operai Non riescono a Tenere il cibo Un po' come sta andando No questa è la tigre Allora Stiamo andando 87% cibo Tutto al 100% No È tutto perfetto Così È così Ok vedete È tutto perfetto Saranno tutto alla grande Stiamo andando La zona posto Erba Erba La zona Intanto Sta arrivando La fine giornata Vediamo un po' che succede Quanti punti ci dà Pamma Abbiamo speso 109.000 Ma ragazzi Che è spento così tanto Così tanto Tanto Allora Però Siamo sopra Il totale Siamo sopra Di 133.000 Ragazzi Abbiamo fatto la bellezza Di 45.000 punti Che ora andiamo a spendere Allora Gli ospiti piacerebbero più accessori Alcuni animali Sono malati Eh Chi è malato No che se muoiono animali Mi dai il coso Ragazzi Il Il game over Allora Il parco è chiuso Erba La zona pasto Non è stata rifornita In un habitat Non è abbastanza Punti di popolarità Per acquistare il cibo Ah Perché il cibo Si acquista Giusto È giusto Ugo Bufalo africano È malato Dovresti curare l'animale E mantenere pulito L'habitat No Ugo è malato Ugo Ma chi è Ugo Gino e Gina erano Ma Ugo è il cucciolo No Dona animale Assegna un giardino Alla ribellazione La riabilitazione Cura animale E sposta animale Cura 882 Bufalo africano Sei sicuro di curare Sì lo voglio curare Ok l'ho curato No ma devo anche curare Gli animali in questo caso In questo senso Ma va Cos'è questo Età L'animale è un cucciolo Al 3% di vita Eh sì perché poi Invecchiano Per esempio Questo è il 50% Di vita No vabbè raga Ma sta diventando Sempre più figo Sto gioco Perché poi Logicamente invecchiano Rimangono i cuccioli I grandi muoiono E bla 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 No ma che figata Comunque abbiamo Ben 42.000 Da spendere Sapete che faccio Io farei la ricerca Di altri animali Torniamo in Africa Tornerei in Africa Andiamo qua Allora strutture Intanto farei Una bella cosa Sulla tv Pam 5.000 5.000 Poi andrei Andrei Assumiamo altri Vedete qua vi dice Cosa stanno facendo Le perai Tutti fermi Tranne uno che lavora Eva Sera Sta lavorando Vedete Questa è la barra Di occupazione Andiamo ragazzi Costruisci sentieri Costruisci accessori E' vero Mancavano un accessorio Una bella fontana Vai Una bella fontana Qui Metterei Una bella fontana Qui Poi che altro accessorio Abbiamo Giardino Zen Wow No però Non mi interessa Adesso Vorrei mettere Qualche albero Figo Allora a sto punto O altre fontane Tipo un'altra fontana qua Bam Ma si Bam Ok Perfetto Ottimo E magari qualche albero Che Ecco Questo qua per esempio Da anche un po' Lo mettiamo qua E uno qua Bam Ok Così la gente è più contenta Ora andrei appunto A prendere Allora Diamo un po' Allestisci zona pasto No non mi interessa Che devo fare raga Non mi ricordo più Acquista strutture Eccolo qua Allora centro ricerca africana Bam Subito Subito Bam Qua Bam Le andiamo a mettere anche Sì salviamo Già con la scusa Salviamo Le andiamo a mettere Una bella cosa Una bella cosissima La strada Una bella cosissima Che è la strada qua Se no come ci arriviamo La strada Che porta poi Alle altre cose qua Eh Perfetto Lo facciamo così E colleghiamo anche qua Ottimo E iniziamo a fare la ricerca Iniziamo a fare la ricerca Ricerchiamo Cosa posso ricercare No qua siamo ancora lì Andiamo qua L'elefante 31.000 A ci becca L'elefante lo volevo Lo scimpanzee Ricerca lo scimpanzee Scimpanzee Sì 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 fia Apriamo Apriamo Ragazzi apriamo E visto che Visto che Visto che Teniamo qualche soldo Per il cibo Perché se no qua Andiamo a schifio Allora Vediamo un po' come sta andando Abbiamo ben Un sacco di Nessuna persona Perché Ancora non è aperto Stiamo ricercando Le scimpanzee Eccolo qua Il parco è aperto Alle 7 del mattino Puntualissimo Abbiamo 20 persone Questa volta Andiamo a vedere le sfide Abbiamo completato Due sfide Ottieni 310.000 punti Proprietà Ricompensa Sblocca Non è male a caso Questa deve essere bella Raggiungi 1000 ospiti In una settimana Ricompensa pubblica In tv Per un giorno Ok Sì perché Si paga pubblicando Ok Abbiamo ben 20 persone Che credo sia Il massimo Per il momento Ma qua le strade Bisogna collegarle Non ho capito Ruota oggetto Ah Bello Si possono ruotare Vedete Si possono ruotare Sì Allora Ok Questa per esempio Non la sapevo Terminare Oh Bitch Abbiamo ricercato Scimpanzi In carico Completato Il 3 Hashtag 3 Raggiungi 1000 ospiti In una settimana Ricompensa Proprio quello Che stavo leggendo Ragazzi Andiamo a fare Lo scimpascot Lo scimpascot Allora Guardate che figata Ragazzi Anzi no Lo scimpanzi Ve lo faccio vedere Nel prossimo episodio Se volete vedere Lo scimpanzè Al nostro parco Guardate quanto Quanto spazio abbiamo Riempitemi Di pollici su Un bacione Un abbraccio Da Luke E tutto Ciao a tutti